MA PORCA CHE VOIA! MA CHE STALE A CHE SU! MA CHE DEVI STARE ZITTO! Vi hai visto prima o meno ciò che... Sono P di brutto, una nota che li trovi finito il livello se fossi... se non fossi lock per tipo... Uuuuh, è dell'uccellino Bravo E qua devi aspettare perchè se ti fossi... Questo lo dici al tuo cervello Sì sì, io parlo solo Ovviamente Oh, meno male che c'è lui che mi copre le spalle, mi piaccio Ma puoi andare su alla coppia? Non c'è regolo Perché sei un coglione Vabbè io voglio trovare i segreti, ma perché? Però poi li trovi segreti e poi non li fa Ma sei un coglione Prima il tuo cervello dice... Perchè tu vuoi... Non vuoi esitare E mi piace, si giochi, sai cos'è il bello di divertente? E andare avanti Ma si... Ma che palle! Non farlo, vai avanti Non fa ancora Giorgio Mastrotta per gli amici Vabbè ma popolini Vabbè ma lo che te lo faccio rifare No cazzo Rivoltante Sei veramente pessimo e allora te lo faccio rifare Sei pessimo, mi fai rivoltare lo stomaco No Occhio è che ci sono sempre che vai tre all'ora Occhio è che c'è diso che ti spara le noccioline Che vorrei dire ma... Non è oddio E' super efficace Madonna Vi devi aspettare Però non ho capire che aspettare E' da via avanti e arrivare No no subito subito perché te li spoppano Dov'era il dk? E' più avanti E' più avanti La gente vuole un burrone che si ha detto Si c'è una corda che continuava verso il basso Mmmmmm Non me la dici vuole E' in mezzo Ma va Guarda c'hanno anche tre banale che te lo consigliamo E' Se l'avessi capito E' più Ray E' più Ray Pensa Ray Ognuno lo vorrebbe a casa per consigliare i sei Sicuramente Ogni cosa è proprio Guarda che non vedrei l'ora di farmi consigliare tutto da Ray Sempre a casa vostra Sopra tutto in cucina Velo mandiamo una settimana E poi vi suicidate Vai giù suicidate ma no qua c'è un decay inutile vabbè adesso lo sappiamo quando ritorneremo perchè muore lui all'ultimo santo muore è vero è vero è vero e qua l'istinto prevalenza primo cammuzzo di Locke l'istinto proprio va su tutto vince tutto lo sta facendo senza esitare perchè sono lunghi sono lunghi qua il rotorealizzalo belle queste piattaforme nuove come c'è un segreto vabbè perchè sai cos'è era nel momento dell'animazione che non aveva ancora capito che era un barile di ferro ma l'ha contato con un barile normale rotoalizzalo si 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 perchè sennò lo prende figurati spaccala questa pelle di merda va non so che serviva più qui no va la rotola alizio vedi vada vada il potere ovviamente no che ha capito e può usare R2 R2 è imparato la madonna e ma vè vuole vince di merda hai fatto in ambas sei un coglione ti ucciderei la mamma dove vai 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 se schiacci perdiamo il checkpoint oggi Locke si fa fottere dalle puttanasie si mangia le palle abbiamo un zero vite eh ma sai tu sei sereno ma che cosa vedi che qua l'ha preso ad esempio era nell'animazione pazzesco pazzesco incredibile è un bug di gioco mandarei una segnalazione e quindi sembra ora che lo fixassero comunque è uscito dopo di anni era un produttore che se era tipo morto no beh non c'è ancora adesso c'è quello per Wii U che dicono sarà estremamente difficile estremamente e vi coserà molto questi vecchi giochi vai 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 e no adesso vai vai veloce veloce no come Rock con un pezzo di merda guardi che è easy è di andare sotto guardi adesso adesso aspetta vai oh 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 o e hai traccato bravo bravo occhio occhio studia che è pattern eee è un casino Vai Vai, 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 vai Occhio No! Eh, ma puttana! Ma c'è un pezzo di coglione Eh, ma sì, mi ha traccato due volte che mi tracca sto uccello di merda Mi ha traccato due volte quella noce E tu quella tracchi in realtà, la noce va dritta, tu la tracchi Eh, ma è fatta apposta, perché è una cosa psicologica E qui sì Dai, l'ho fatto Perché lo segui per si sembra molto Sul pezzo più facile Vuoi farle a ste hotelli? Anche se non è il caso Mi piace No, c'è... Coglione Coglione Coglione, c'è un coglione C'è un coglione Quello di... La notte da leoni Eh, manzoni, manzoni Ah, mi chiede, solito che io non l'ho ancora visto Ma no Eh no, lo so, manca Ma quale, l'1 o l'2? Anche l'ultimo è carino No No, l'ultimo è un po' più cagato Ma merda Era forzatissima, eh Primo sì Aspetta, fatemi studiare un attimo il pattern qua Cosa c'è da studiare? Eh, minchia Non è Aspetta qua, eh Potresti avere il decay Madonna Che c'è culo Eh, no, no Ma mi dà lo sai che l'ho fatto uguale prima No, l'ho che è andato su Ed è arrivato della merda Sul cucuzzo lo era Ti ricordiamo che mi esce la merda Mentre tu guarda Dai, dai, subito Vai, vai, vai Muttana, però che ansia Che gioco Vedi, adesso Occhio No, lei è sotto Ma vai, è andato a muzzo Ma che muzzo Guardalo lì L'ambars Occhio, guai, l'ambars Questa Viene da sotto Poi è nuovo, eh Attenzione Non so cosa devo fare Dai, non è possibile Tanto così Ma prendi la rincorsa, no Ma come facevi? Ma c'è la penna che lo sa così Lo sapevi No, ma si vedeva che l'altro saliva su Eh, non si vede Vedrai che non si vede Eh, dai, vedrai È ovvio È ovvio il pezzo Non era ovvio Ma prendevi la rincorsa Ci sei andato al ciglio Ma ormai Era già tu Era da poco giù Eh, non la prendi Cazzo Cazzo, ovvio No, no, no Ma non valuti Ma non puoi valutare Perché sei su una rampa che si muove Come fai a valutare? Non metti le mani Ma non vedi quanto è larga quella rampa Sì, ma tu Ce la fai a prendere la rincorsa Ma non hai capito Tu eri già giù ormai Non potevi più prendere cosa La rincorsa la prendi sulla rampa In realtà In base Non ho capito Donkey Kong è fatto così apposta In realtà Donkey Kong Alla vista corta apposta Perché tu in realtà Devi farteli per forza Certi pezzi Cioè, è andata bene I livelli Non puoi farteli tirati Perché? Perché devi capirli Man mano che muori Sì, ho capito Ma sei già l'ottoma oltre Eh, no, ma lì non eravamo ancora arrivati Adesso abbiamo capito E sappiamo già di prendere la rincorsa prima Così hai le responsabilità di quello dopo Eh, certo Vai Vai Trovare che fai io Ah, non scende Pensavo uccissemelo Ma uccissemelo sto cunzo Eh, io non ci arrivo cazzo di me Adesso Non l'ho capito adesso Adesso l'ha capito grazie all'Armiss Armiss Perché la D è muta Non si sa mai Non si sa mai Eh, ma fottata Eh, c'è dopo C'è dopo C'è dopo Quanto diceva che DK è meglio qua? DK DK Don K Kong Diki Kong e DK Anche lui Eh, anche DK è vero Anche Didi Ma non mi ballare Perché sono tutti con la D Dixie Dixie, Didi Perché così non cambiano la skin D'accordo 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 Anche se fanno un gioco con un altro personaggio D'accordo D'accordo È come Jojo Che sono sempre Jojo 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 Jojota 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 È un caso E' un caso Non è un caso Ah, sì Ah, è vero Scusa Io non riesco a farmi più capire Quando faccio il sarcasmo Il sarcasmo Che è una skill Di Adales Sarcasming è basso Forse È proprio la pena Èっと alto È troppo alto Che lo faccio così bene Che non ti rende di conto Che noi non abbiamo abbastanza percepige Il sarcasming E' un altro C'è un altro Ma dai Sì, l'ha saltato, Dio, madonna. Occhio, che te sei... Occhio, questo è... Ti piacciono le noccioline a lei. Ti piacciono le noccioline a lei, vuole mangiare. Vai. Salta. Occhio. Pocchina qui. Saltamela. Ecco qua. Vedi che... La vedi, la vedi. Sì, ma mentre vai giù lo vedi che c'è su. Sì, però non sai che... Ma non sai quando! Capisci che... Vai, adesso. Adesso. Adesso, anche sapendolo... Era comunque così. Oh, di nuovo. Vai. Eh, con tanto di ape qua, eh. Io odio sto ripetendo... No! Ma vaffanculo, la madonna di Dio! Mi piacciono le noccioline, te l'ho detto. È buone. Madonna di Dio. Pezzo di merda. Ma non è ovvio sto gioco, comunque. No, sto pezzo... Sto pezzo non è ovvio, comunque. Perché ho messo l'incato... Cos'è l'incato? No, aspetta! Ha fatto... Sì. Il cazzo... E tu, il cazzo di cavo, Tocchi! Quanto ha toccato? Non l'ha già fatta così, lui. Te lo mettessi nel buco del culo, il piede, Adalby. E siccome te lo metto io, te lo metto io, è il buco del culo nel piede. Il buco del... Ma cazzo, prende il tuo buco del culo, io lo metto nel piede. Aspetta, ma non fatemi ridere. Aspetta, fammi usare lui. Intanto, no. Allora, donna. Lì, ricordati che devi fare... Le ne hai, le ne hai, le ne hai queste puntate. Vabbè, in DioK è solo uno. Ognuno che dici DioK è una bestemma, io te lo ricordo. Non è vero, DioK è perfetto. Perché mi viene DioK adesso, fra l'altro? Non è che ho letto... Cioè, non è che lo... Ma non è che sei un coglione, non è che... Ma che è una ditta di cazzo? E per favore te lo finisca, un'ora. Dammi qua. E tieni sto cazzo di coso? Ok, Ray, non fa un cazzo. Nel senso, lui viene qua, si siede, aspetta che noi montiamo la roba. Ma che cazzo dice... Poi si siede, aspetta, aspetta, aspetta il microfono. Ma va, 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 va. Poi, poi, quando dobbiamo mettere via tutto, lui è lì, così... Oh, qualcuno c'è un là, aspetta. E poi ti fa quella faccia che mi dice, sai, il momento. Ma ci sarebbe da spostare, ci sarebbe da spostare, ci sarebbe tre persone per spostare sta cosa. E se io e Locke... Guarda che ultimamente sono andato la mano. È vero, ti può spostare il computer. Io c'ho quel, attimo che è il tuo. Io c'ho quel, un taratissimo divano comodo e ora sta lì. Il divano comodo. Hashtag divano comodo. È una serie. Vi prego. Il divano comodo è quello del talk. Questo non gli piace, Locke, è proprio tutta bene. Ma voi, infatti, non sono mai morto. No, sei morto prima. Sei morto prima. Adesso. Sei morto prima e adesso, guarda, guarda, adesso. Vedo, c'è che poi salti sull'arco. Quando vai indietro. Non finiamo sto cazzo di missione. Quando vai indietro, adesso vai. Finiamola sta missione, per favore. Dai, ah, perché c'è la cunetta. Ti pare che è tutto calcolato, sto gioco. Ti fotte ste noci di merda. C'era la cunetta. Adesso. Rivedi che andavi al buio, non potevi saperlo. Ma lo vedi dall'alto a puttana. Ma non puoi sapere il tempismo. No, cazzo. Ma l'ha fatta l'opposta. Ma l'ha fatta, ma l'ha saltato molto prima. Molto prima. Rocca, sono dici di saltare prima? Eh, sono dici di saltare anche nella vita. Siamo lì, non ti dici che stiamo per saltare. No, no. Aspetta, non aspetta a saltare. Che cazzo no. Perché salta sempre prima. Porca puttana. Ma l'ha fatta un salterino proprio, con la corda. Vedete che rumore che fa? Sì, saltare la corda. Ma è saltata in vita mia. E poi avevo sempre l'ansia. Nelle brave occasioni in cui ho avuto corda. Corda. Che ti hanno dato corda? Esatto. Amiche, su Warp si è usata come un ninja e poi non riesce neanche a saltarla. Comunque, queste tre puntate finiamo il gioco. Sicuramente. Sono finite. Beh, a parte questo è l'ultimo mondo in teoria, credo. Eh, oh ragazzi, per favore. È quasi finito. Così ce lo togliamo ragazzi, non lo vedete più, lo so che vi rompete i coglioni, non lo vi piace. Invece no. No, chi lo guarda però è ok e è affezionato. È bene, bravo. Adesso dovete dire quanto vi piace questa serie. Ma tanto. Hashtag della puntata tanto. Tanto. Non vi entro anche, Hashtag. Madonna, sanoce. Madonna. Madonna. Ma no, Madonna. Doviamo aprire una chiesa dedicata alla Madonna. Attento alla noce. Ma cazzo. Eh, si è resettato perché è andato indietro resettandolo. Vai. Vai, vai, vai. Ma si ce lo fa? Ma non lo per il cazzo. Non lo per il cazzo. Darby sei un cagaminchia che fossi io mi scoprei il suo buco del culo. Fossi io? Fossi io cosa? Fossi io a Darby. Ti scopresti il buco del culo tra solo. Vai, vai, vai. Attento, attento, non fare il coso. Aspetta. Ma se... Ma no. Ma porca di boia! Ma che è andato su? Perché... Ma se è perché devi stare zitto. No, no, no. Devi stare fottutamente zitto. Non sei colpa agli altri. È pazzesco. Uno sputo. Sono messe giuste sti figli di puttana. Oddio, bambo. Dai, dobbiamo finire sto rimettando. Io il palazzo ad Albis! Scusami. Io mangio l'orecchio, veramente, se ci senti che... Ma cosa fai? Buonanotte. Poi cosa stai facendo? Ma tu non giochi? È l'onestà che ti è venuta fuori. È la noestà. È la noestà che è il contrario di onestà. È la nagama più che il contrario. A me le vocali le ho messo un po' a caso. Come sono? Allora, è l'ultimo trial. Come ultimo trial? Ma per favore! Allora, l'ultimo trial, dai, se dovete dirlo bene. Che sei morto e fai le ultimi tipo 4-4 minuti hai avuto una mia di 30 secondi. Ma che cazzo che stai dicendo che dici? Il cazzo che stai dicendo, Vey, però, eh. Ma che mi legge le dita! Ma che vuoi il cazzo che stai dicendo? Ma che non dirlo il cazzo che mi incazzo. Cazzo. Mi legge le dita con Adalbis. Mi legge le dita con Adalbis. Mi legge le dita con Adalbis e mi sta... Ecco lì, vabbè, mi sono passati 30 secondi. Ma puoi riprovare? Sì, perché prima mi ero rubato il posto e mi ha fatto star male. L'ho ferito. Dai, dai, adesso gioco serio. Adesso gioco serio, fang. Madonna. Gioco però spedito, te lo dico, eh. Eh, stiamo spedendo. Stiamo spedendo? Spediscilo. 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 Spediscilo, spediscilo. Vedete cosa fare. Zzz. Non è ovvio. No, è ovvio, è solo che siamo difficili. Beh, non è proprio ovvio, perché quel pezzo non è fai... Vabbè, il pezzo dove muori tu è ovvio. Non so più. Sì, vabbè, ma al tempo arriva lì, tu sei ancora... Sei a giorni di distanza. Sei a giorni di distanza, proprio. Sei proprio a giorni, cazzo. Giù, adesso. Attento, 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 pazienta. Attentatelo. Ma a me non mi fanno un cazzo, i nocciole. Quando vai indietro? Eh beh. Ragazzi. Invece no, mi ti conto, faccio così. Occhio. Ma non mi fanno un cazzo, i nocciole, sono immuno. Ma lì mi ha beccato a me prima. A me no, perché io sono immuno, ti ho detto. È qua che mi fotto. Ok, aspetta. Guardi al bordo. Adesso. Perché non ti becca quel sasso, in realtà è solo sfondo il sasso. Aspetta, non facciamo un bordo. No, sei lì, bravo. Non facciamo quello che ho mai arrivato. Aspetta qua, aspetta, aspetta. Basta saltare, è un segreto. Vedete che finisca le munizioni? Non può finire le munizioni, è infinito, sto coglione. Questo è impossibile, tipo, è il post finale. Ahahahah. Poi hai perso una vita. Lei è giù le banane, vai cazzo. Exit, è minchieri. Era il metro dopo, cazzo. Vap al culo. Vapà, vapà. Sper salvare onestamente. Egy. Ma si salva. Sper salvare onestamente. Ma dottorale. No, che cazzo. Ma quella è la tizia. Sper salvare, porca troia. È vero che le signore di colore per strada ti salvano. Ti salvano ancora. Ricordate, le persone di colore per strada che allungano la gamba. Schiaccia. Ti salvano il culo. Per salvare. E non so. Beh, vai vedere cosa c'è anche mentre salutiamo. Io saluto ancora. Saluto. Io saluto. Allora ragazzi, iscrivetevi su Facebook. Usate i socialetti. Gli li adesso i socialetti. Allora, iscrivetevi a Facebook. No, vabbè, basta. Mettete tutto quello che... Noi abbiamo tutto tanto. Facebook, Twitter, Google+, aggiungeteci ovunque, condividete perché noi... Siamo i Super Fighting Bros. E io sono Alpissaray. E io sono Locke. No, no, perché... Perché lui io non ci gioco qui. Ecco. Adesso, corri sotto. Corri, corri, non ti fai... Non vi preoccupate. Torniamo fra un seconda. Fra un seconda?